Buonasera a tutti e benvenuti al mio appuntamento. Il tema di questa sera saranno i disastri ambientali o tutto quello che succede sia in natura ma anche creato dall'uomo. Gli eventi cambiano in continuazione, il terremoto di Ischia è già passato di tempo quindi non se ne parla assolutamente più, della siccità ormai non se ne parla perché è bastata la prima pioggia. Però in realtà bisogna anche soffermarsi a volte e fare delle riflessioni e capire che cos'è, se c'è un filo conduttore che porta tutto questo rimanendo nel tema dei disastri sia naturali sia creati dall'uomo. Che cos'è poi il filo conduttore? Partirò da un episodio molto poco conosciuto che è quello della fabbrica di Trissino in provincia di Vicenza dove sono stati interrati e quindi poi di conseguenza ha creato una serie di inquinamento, ha inquinato l'acqua da Pfas che sarebbe il perfluoro alchiliche, è molto nocivo per l'uomo perché quando ha inquinato le falde poi si è sospetto che sia anche cancerogeno quindi la gente se l'ha bevuto tranquillamente. Poi il fatto di Ischia che si conosce quindi è già conosciuto più in alto e l'ultimo parlerò di una recensione di un libro della Noemi Cain dove viene riportato nell'internazionale di questa settimana l'internazionale numero 1220 che va dal primo al 7 settembre e parlerà dei signori dei disastri degli Stati Uniti. Quindi arriviamo dal piccolo, cioè una cosa insignificante, fino al massimo per vedere se c'è un filo conduttore. Allora partiamo da quello meno conosciuto, meno insignificante che è questo dell'interramento nel perimetro di questa fabbrica a Trissino in provincia di Vicenza di questo materiale nocivo. Viene riportata la notizia il 27 agosto di quest'anno dalla Nuova Venezia dove poi come soluzione di questo interramento, di questo inquinamento danno sempre queste cose, poi le troveremo sempre dappertutto, che è l'accertamento delle responsabilità penali e civili e la stessa cosa si dice nell'ischia o della siccità che per esempio le tubazioni perdono, le tubazioni d'acqua perdono quindi c'è una grande perdita d'acqua potabile, poi la bonifica su ampia scala, quindi interventi immediati su ampia scala quindi soldi che qualcuno deve mettere e chi deve mettere questi soldi? In questo caso parlava del sostegno finanziario del governo, questo è l'elemento meno conosciuto e quindi però si ripete, si ripeterà questo sistema, si ripeterà anche negli altri casi e vedremo come perché la manutenzione, cioè la piccola manutenzione costa poco e faccio un esempio, per un miliardo di un disastro dove si deve intervenire immediatamente e in poco tempo magari in pochi mesi da spendere è un fatto, se io devo spendere 100 milioni di manutenzione per mantenere un sistema efficiente ci vuole un 100 anni e quindi chi è quel imprenditore che per 100 anni aspetta per fare l'auti e i profitti ma dall'azienda di Trissino che poi fra l'altro si parla di Veneto nella provincia di Vicenza, Padova e Verona sono stati inquinati, si parla addirittura di bomba ecologica di Trissino e tutte le reti idriche ad essa collegate quindi potenzialmente inquinate chi erano i proprietari di questa fabbrica che poi si è susseguita nel tempo i proprietari dall'inizio c'era Marzotto, poi Mitsubishi, Eni ma non solo, l'articolista riporta la frase del capogruppo del PD in consiglio regionale e dice che certo in Italia vale il principio della prescrizione quindi si rischia anche che il colpevole, la prima parte, cioè il colpevole non si troveranno mai e questa vicenda è decisamente complessa però ci sono sicuramente strumenti legislativi adeguati ad accettare sanzioni, sanzionare i comportamenti illeciti per cui il colpevole non si troverà, si troverà di sicuro chi pagherà, cioè pantalone e quindi attraverso lo Stato farà l'esattore da parte soprattutto di chi paga l'80% delle entrate dello Stato derivano dal prelievo diretto in busta paga quindi i lavoratori dipendenti e stornerà a delle aziende, a delle ditte che con questi soldi faranno le bonifiche e poi guarda caso noi paghiamo perché queste ditte lavorino e magari senza magari i lavoratori che faranno i lavori sanno pagati poche migliaia di Euro quindi super sfruttati, lavoro precario, quindi paghiamo per essere precari e super sfruttati il perfluoro alchiliche, cosa serve? La sostanza base per rendere resistente ai grassi e all'acqua materiali come i tessuti, tappeti, carta, rivestimenti eccetera questo è il primo che è meno conosciuto ma il disastro dell'Ischia, il terremoto che è venuto giù è l'articolista di La Nuova di giovedì 24 agosto l'articolista è Roberta Carlini e dice stavolta il giallo è stato risolto subito il colpevole non è il terremoto ma l'uomo con le sue costruzioni di sabbia malfatte e peggio mantenute ma ecco qui si dà la colpa all'uomo così in generale, non è un sistema che è basato sul profitto sul risparmio dei materiali per esaltare il profitto perché è dal lavoro vivo, cioè dal lavoro diretto dell'uomo che avviene il profitto dal lavoro morto o no, cioè dalle costruzioni già fatte ma leggendo l'articolista si viene a sapere che in un articolo scritto per La Voce Info due economisti Andrea Cifollilli e Marco Pompilli fanno notare che questo fondo cioè il fondo creato per le emergenze da parte dell'Europa diceva questo fondo l'Italia è stata il beneficiario numero uno ha preso 2 miliardi e mezzo in 15 anni quasi la metà di tutto il fondo si tratta di una cifra piccola rispetto all'entità di danni subiti nel nostro paese per disastri naturali negli ultimi 15 anni 52 miliardi di cui 47 da terremoti ma è il 49,5% di tutta la spesa del fondo di solidarietà europeo come se i terremoti, inondazioni e disastri naturali si concentrassero tutti nella nostra penisola quindi disastro, affari da parte di qualcuno e poi sapremo perché adesso arriviamo al top il più grande affarista come accennavo prima sulla rivista settimanale l'internazionale l'internazionale riporta alcuni stranci di un libro dell'autrice Noemi Klein che è una giornalista canadese e ha scritto questo libro no, non è abbastanza come resistere all'era di Trump questo libro uscirà il 2 novembre di quest'anno sarà edito dalla Feltrinelli anche qui si colpevolizza l'uomo come l'uomo fosse la causa oddio, è l'uomo sì che fa ma è attraverso un sistema sociale che gli permette di fare queste cose e porta degli esempi che farò, leggerò dei stralci dove queste persone alcune persone quindi aziende proprietari di aziende fanno soldi attraverso per esempio con l'evento di Baghdad attraverso gli emigrati attraverso il disastro Catrina e l'ultimo attraverso i cambi i cambiamenti climatici spero di non essere troppo lungo ma è molto interessante quello che dice leggerò alcuni stralci nei viaggi dice l'articolo la giornalista nei viaggi che ho fatto per scrivere reportage sulle zone di crisi ci sono stati momenti in cui ho avuto l'inquietante sensazione non solo di assistere al succedere di un evento ma di scorgere un barlume di futuro un'anteprima di dove ci porterà la strada che abbiamo preso se non afferriamo il volante e non diamo una bella sterzata quando sento parlare del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che evidentemente si diverte a creare un clima di caos e destabilizzazione penso spesso di avere già visto quella scena sì l'ho vista negli strani istanti negli strani istanti in cui ho avuto l'impressione che mi si spalancasse davanti il nostro futuro collettivo uno di questi momenti arrivò a New Orleans dopo l'uragano Katrina nel 2005 mentre guardavo calare nella città inondata orde di mercenari armati erano lì per trovare il modo di guadagnare dal disastro perfino mentre migliaia di abitanti abbandonati dal governo erano trattati come pericolosi criminali solo perché cercavano di sopravvivere e quindi qua parte interessante queste cose che dice mi era successo anche nel 2003 a Baghdad poco dopo l'invasione in quei giorni l'occupazione statunitense aveva diviso in due la città al centro dietro enormi muragli di cemento e di rilevatori e di esplosivi c'era la zona verde un pezzettino di Stati Uniti costruito in piena Iraq con bar che servivano superalcolici fast food palestre e una piscina dove sembrava che ci fosse una festa perenne oltre a quel muro c'era una città ridotta a macerie dai bombardamenti dove spesso mancava la corrente elettrica e gli ospedali e dove la guerriglia fra le fazioni irachene e le forze di occupazione stava diventando rapidamente ingestibile era la zona rossa all'epoca la zona verde era il feudo di Paul Bremer che era stato assistente all'ex segretario di Stato Eric Kinsinger e direttore della società di consulenza era stato nominato dal presidente George Budapion Bush primo inviato statunitense in Iraq dato che non c'era governo locale operativo Bremer era in pratica il leader supremo del paese il suo era un impero totalmente privatizzato un elegante complesso di uomini d'affari e anfibi da combattimento erano sempre protette da una falange di mercenari vestiti di nero che lavoravano per la compagnia militare privata Black Warrior oggi scomparsa ha cambiato nome ed è stata comprata dal gruppo Constellis la zona verde era gestita insieme a una rete di altre aziende private dalla Holling Burton una delle più grandi aziende al mondo per lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in passato era stata guidata da Dick Cheney all'epoca vicepresidente degli Stati Uniti quando i funzionali statunitensi rischiavano uscire dalla zona verde viaggiavano all'interno di un convoglio corazzato circondato da soldati e mercenari che puntavano le mitre elettrici in tutte le direzioni gli iracheni non avevano nessuna protezione a parte quella fornita dalle milizie religiose in cambio della loro realtà il messaggio lanciato dai convogli era forte e chiaro alcune vite contano molto più delle altre ma si continua Salto diceva ma man mano che scavavo più a fondo capivo che questa strategia era stata l'alleata silenziosa del neoliberismo per più di 40 anni qual è questa strategia? la strategia dello shock segue un copione chiaro e lo vediamo anche in Italia dappertutto aspetti una crisi dichiari un breve periodo di quello che a volte viene chiamata iniziativa politica straordinaria da noi si fa il commissario unico sospendi alcune o tutte le regole della democrazia e poi imponi appena possibile le misure volute dalle multinazionali la mia ricerca dimostrava che in teoria qualsiasi situazione difficile se presentato con sufficiente isterismo dai leader politici può lubrificare gli ingranaggi potrebbe essere un evento estremo come un colpo di stato militare ma funziona molto bene anche con uno sciocco economico come un crollo dei mercati o una crisi del debito in un periodo di iper rinflazione o dopo il crollo delle banche per esempio l'elite di un paese sono state spesso in grado di presentare a una popolazione in preda al panico gli attacchi allo stato sociale o i salvataggi fatti col denaro pubblico come misure indispensabili per tenere in piedi del settore finanziario privato perché secondo loro l'alternativa era l'apocalisse economica ecco questo per quanto riguarda ma continuando per esempio la politica contro l'immigrazione è questa diceva questo presidente ha imposto un divieto d'ingresso temporaneo agli Stati Uniti ai migranti siriani questo presidente parlando dei bambini siriani richiedenti asilo ha detto posso guardargli dritto negli occhi e dirgli non potete entrare questo presidente non ha cambiato idea neanche dopo aver ordinato il lancio di missili sulla Siria in teoria spinto dalle immagini terrificanti degli attacchi con armi chimiche contro i bambini siriani bambini bellissimi ma non è stato abbastanza commosso da accoglierli insieme ai loro genitori ma la politica contro l'immigrazione cosa dice tra il giorno delle elezioni presidenziali l'8 novembre del 2016 e la fine del primo mese di amministrazione Trump il 20 febbraio le quotazioni di imborsa delle due più grandi aziende carcerarie private negli Stati Uniti la CoreGVIC e la GEO sono raddoppiate salendo rispettivamente del 140 e del 98% perché se la Exos ha imparato a guadagnare dai cambiamenti climatici queste aziende fanno parte delle fiorenti industria delle prigioni private della sicurezza e della sovrallianza dell'industria che vede nelle guerre e nelle migrazioni due fenomeni spesso collegati ai problemi climatici altrettante interessanti e sempre più ghiotte opportunità di mercato perché gli immigranti clandestini vanno messi in prigione e quindi vanno sempre richiesto più posti per le prigioni e quindi si paga è un sistema dice lei delle porte girevoli cioè il passaggio da incarichi pubblici ad aziende private e viceversa non è nuovo naturalmente i militari in pensione trovano sempre lavoro e contratti nelle aziende del settore dei armamenti la novità è il numero di generali su libro paga delle aziende militari privati che Trump ha inserito io non voglio tediarvi però andate a leggere molto interessante anche quando parla di Catrina e qua torniamo nella zona quando dicevo delle manutenzioni lei diceva un dettaglio importante perché in quell'anno l'uragano venne declassato perché dice è stato un dettaglio importante quello del declassamento perché una tempesta tropicale non avrebbe mai sfondato le difese di New Orleans contro le alluvioni invece Catrina ci riuscì gli argini artificiali che proteggevano la città non resistetono perché oggi sappiamo che nonostante i ripetuti allarmi sui possibili rischi la manutenzione degli argini è stata insufficiente i motivi erano due il primo era il disprezzo per le vite dei neri e più e questo faceva parte di una più ampia negligenza della gestione delle infrastrutture pubbliche di tutti gli Stati Uniti ma ecco quindi abbiamo visto da una parte i disastri che trovano sempre immediatamente questa isteria shock si chiama così il problema shock in modo tale che la gente sia disposta anche io ho visto per quanto riguarda il terremoto di Amatrice diciamo il centro Italia quest'ultimo la gente si è data anche da fare per dare sovvenzioni private alle persone giustamente in solidarietà ma questa isteria fa sì che non si trovi mai il colpevole il colpevole è questo sistema questo sistema dove fa soldi sui disastri è inutile poi prendersela la punta l'iceberg di quei imprenditori che sorridono e dicono il terremoto ci fa fare gli affari sì è vero fa fare gli affari perché la manutenzione come ho detto prima la manutenzione costa costa molto meno e ci vogliono molto meno soldi e quindi molti meno profitti vorrei chiudere non portandovi via tanto tempo perché altrimenti divento pesante quello che gli articoli scritti sul giornale su un giornale da Amadeo Bordiga il fondatore del Partito Comunista d'Italia del 21 questi articoli sono usciti dal 1951 al 1953 si trovano sul libro Drammi gialli e sinistri della moderna decadenza sociale chi lo volesse andare a leggere lo può trovare sul sito www.quinterna.org basta che scriva Drammi gialli e sinistri nella moderna decadenza sociale e nella introduzione si può leggere chiaro che dice che piova senza sosta o non piova affatto per intere settimane è oggi certamente un fatto naturale ma che ne seguono un'indulazione o una siccità è un fatto sociale analogamente le scosse sismiche delle ande sfuggono al controllo dell'uomo ma il fatto che distruggano le città del Perù mentre Machu Picchu vi resiste da secoli a cause sociali nei suoi studi Marx ha mostrato che le grandi carestie che devastarono l'India e quelle che oggi falcigliano l'Africa ricordo che questo libro di introduzione è stata fatta nel 1970 non erano dovute a cause naturali ma alla penetrazione del capitalismo che non solo portava alla rovina dell'artigianato locale ma minava l'agricoltura introducendo la proprietà privata del suolo e impedendo allo Stato centrale di svolgere il suo ruolo di regolatore e distributore delle acque gli scritti che seguono mettono lo stesso modo in evidenza le cause sociali di un certo numero di fenomeni e catastrofi sedicenti naturali dalle inondazioni del Po fino all'erosione del suolo in Calabria o Sardegna passando per il crollo e il superamento di dighe non solo la civiltà borghese può essere causa diretta di queste catastrofi per la sua sete di profitto e per l'influenza predominante dell'affarismo sulla macchina amministrativa si veda il ruolo del sboscamento portavo un esempio ma si rileva impotente ad organizzare una protezione efficace nella misura in cui la prevenzione non è un'attività redditizia e quindi prosegue saltando i responsabili dell'inquinamento della natura e della vita umana delle distruzioni e delle catastrofe non è né l'uomo in generale né la società in generale e ancor meno la famosa civiltà industriale comodo luogo comune per mascherare i problemi reali è un modo di produzione ben preciso retto da leggi ben precise il modo di produzione capitalistico caratterizzato dalla generalizzazione della produzione di merci mediante lavoro salariato lo sviluppo della produzione mercantile sulla base del lavoro salariato porta inelutabilmente alla corsa al profitto e all'accumulazione al concentramento del capitale ad imperialismo nocività inquinamento distruzione disastri non sono che aspetti e aspetti parziali delle conseguenze di questo sviluppo io vi lascio perché il mio tempo ormai è scaduto e vi inviterei a riflettere su queste cose e non farsi prendere dall'isterismo dai programmi dalla politica shock e di ricordarvi di ricordarci assieme queste cose perché sembrano ieri no ma del 24 agosto questi gli articoli oggi siamo il 4 settembre sembra un un tempo passato trascorso tantissimo e non ci ricordiamo più dobbiamo riflettere su queste cose grazie di avermi ascoltato e ci vediamo fra 15 giorni saldo a tutti grazie 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 per la visione!